Sono un ragazzino sporco, sono sporco, 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 sporco! Belle, ti sei evoluta di un gradino nella scala dell'idiota. Continua con i tuoi graffianti commenti, Mandy. Ma a restare graffiata sarai tu alla fine delle chiappe! Chiamo alla sbarra il papà e la mamma di Mandy! Ah, non è che non vogliamo bene a Mandy. Le vogliamo un mondo di bene. È solo che lei ci fa... lei ci fa un po' paura. Di solito ho paura persino di incontrare il suo sguardo. Il giorno che nacque, i lupi cercarono di prenderla perché la credevano dei loro. A volte mi viene da chiedere se abbiamo fatto bene a fermarli. Avanti con il prossimo test! Se ne va sempre in giro, brutta, malmessa e tutto quanto. E non le viene neanche da chiedere scusa per questo. Ecco, prende sempre in giro il mio modo di parlare. Io, io, io insomma mi guardi, io sono solo un cane. Che parole schifose userebbe per descrivere Mandy? È una montata! Crude! Implacabile! Cinica! Stramma! Misanthropa! Musona! Puzzolona! Piena di funghi! Isterica! Pupi duppi pipi, cacca pupu, cicciuiui! Chi ha lasciato qui questo bambino? Bene, Mandy. Immagino che il bombardamento a tappeto che ho fatto del tuo personaggio ti abbia fatto decidere di desistere, giusto? Giusto, giusto? Giusto, 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 giusto! Aaaaaaah! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Nessuna morde in quest'aula! Aaaaaah! Aaaaaah!